E' tornato nonno Gustavo dall'Argentina e a Luna le ha portato tanti regali. Lei è contentissima. Bella Luna, bravo nonno Gustavo. E' tornato il guelo, la buela, lei è felice. E' vero amore, guarda quanti regali che ti ha portato il nonno dall'Argentina, mio amore. Veramente tanti regali per Luna. Nonno Gustavo e nonna Veronica le hanno portato dall'Argentina tanti regali. Lei le guarda ed è contentissima. Lei le guarda per Luna. E' un problema che devi vuole radia. Revisore ded minimi dev オ